Cari amici del CEDEC, sono Anna Gaia Marchioro e sono Anni di Bruschetta, vi do appuntamento dal 15 al 19 di febbraio al Teatro Massimo di Cagliari con uno spettacolo scritto e diretto da Andrea Muzzi, Mille, uno spettacolo sul tema della gentilezza, per cui se non venite vi veniamo a prendere a casa, vi facciamo! Ci vediamo a teatro, ciao! Grazie!